Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Solo stamattina abbiamo parlato di quanto potesse essere utile lo strutture deck drago bianco Qui e poi esce l'ultima carta un nuovo Xyz Quindi un nuovo Xyz drago bianco, drago argente, dal look che abbiamo visto è drago argente Però vi devo dire un nuovo Xyz con 4000 di attacco Quindi già partiamo discretamente bene e vediamo che cosa fa Prima di iniziare come sempre ragazzi mi invito a scrivervi uno suonare i primari sempre aggiornati Ricordo che l'iscrizione c'è stata tantissimo Io vi ringrazio detto ciò Iniziamo prima, due secondi prima di partire Domani l'analisi del mazzo anche se comunque conosciamo Però vabbè al limite facciamo un macro recap con l'analisi E poi come sempre il tempo di provarlo, il 3x dello strutture di fare tutte le cose 3x ovviamente tutorial combo e tutto il resto Detto ciò vediamo che cosa è Indigo Ice Silver Dragon Quindi se Indigo Ice non è considerabile drago bianco o chi blu diciamo Quindi per determinati effetti Però vi devo dire ci potrebbe anche stare Livello 8, 4000 a 0 vuole due mostri di livello 8 drago Quindi non è generico Se viene evocato tramite Exis possiamo negare gli effetti di tutte le carte scoperte che l'avversario controlla Partiamo bene Allora partiamo bene Se possiamo farlo durante il turno dell'opo ancora meglio Non può attaccare direttamente a meno che non ha un mostro normale come materiale Possiamo staccare il materiale da questa carta da cretare un mostro normale nel cimitero oppure bandito Lo chiamo specialmente e se lo facciamo guadagno a 1000 Allora è prettamente anche coin second Nel senso è molto interessante se possiamo evocarlo per negare gli effetti delle carte scoperte dell'opo è buono Potrebbe essere utile per bloccare determinati terreno Determinati effetti continui in realtà in determinata occasione Però mi piace molto il fatto che Evocchi in sostanza un mostro normale nel cimitero Che potrebbe essere anche quello che banda comunque Maggio e Trappola Perché viene considerato normale No, viene considerato Blue Eyes Non mi ricordo più Lapsus momentaneo Sì possiamo ripornare Drago Spirito del bianco Entra, si pompa di 1000 e banna anche Potrebbe essere una roba molto molto interessante Quindi potrebbe avere una sua utilità Sì non è uno di quei super ultra mega mostri che ti fa roba Però col synchro che comunque nega Che comunque è facile da evocare tranquillamente Con tutta la roba di extra che comunque non è male Hai modo comunque di pararti bene Questo può essere un going second in più Perché comunque ti mandi sempre un botto di drag bianchi al cimitero E con la trappolina puoi fare delle robe Puoi fare delle robe interessanti Quella che spacca in base ai draghi bianchi che rivoliamo da terreno, mano e cimitero Quindi può essere interessante Li mandiamo sempre al cimitero Quindi questo ci consente di rievocarseli Li rievociamo spesso, ma tanto spesso Puoi regolare con la terreno, mandi dal deck al cimitero Comunque tributi poi il link e ti rievocchi roba Quindi può essere veramente una roba interessante Quindi può essere un x-season in più Per cercare di comunque fare delle robe Perché, ripeto, ci sono dei momenti in cui il mazzo magari viene un attimino stoppato E magari, soprattutto, se parti secondo con questo in campo Ti tributi ovviamente il link Magari ti rievocchi il secondo dragobianco Fai l'x-season e cali questo Che fa anche un negate importante, diciamo, quando entra Sempre se non viene negato, sempre se non lo bloccano Naturalmente E ci consente di evocare uno comunque dei mostri Normali dal cimitero oppure banditi Quindi vi devo dire Secondo me una discreta carta per il going second ci sta Ci sta Alla fin fine non mi aspettavo un'altra carta nuova da extra Troppo overcrippata alla fin fine Però vi devo dire, secondo me, la sua utilità Soprattutto se uno va a giocare soltanto il 3x dello structure Con qualche aggiunta Ci sta assolutamente Secondo me, a meno che non c'è modo di evocarlo Nel turno dell'oppo E quindi fare dei negate importanti In una versione con tanta aggiunta Ovvero con Crimson Dragon, con Blasar Con tante altre roba Forse lo spazio difficilmente lo troverà Però in una versione un pochino più budget Al limite lo trova Non la vedo in una carta Né fortissima Ma neanche così scarsa Perché secondo me la sua cosina può farla Ma anche per Comunque giocare altri draghi bianchi in più E vittare con tantissimi punti di attacco alla fin fine Quindi secondo me qualche cosina si può fare Chissà se magari non troviamo Modo di giocare in altri mazzi Però no, è palesemente per dragobianchi così Perché non sono male da rievocare Comunque dai, interessante Detto questo ragazzi Quindi fatemi sapere voi cosa pensare ovviamente Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video E un saluto a tutti E un saluto a tutti E un saluto a tutti E un saluto a tutti